Eccoci qua di nuovo ragazzi dopo l'anteprima che vi ho fatto vedere qualche giorno fa concentriamoci invece adesso su quello che è il discorso degli acquisti online. Come avete notato negli ultimi anni sono molte le piattaforme online che ci consentono di acquistare prodotti, strumenti adesso rimaniamo focalizzati nel nostro settore musicale quindi strumenti musicali, accessori, amplificatori, pedali, tutto quello che vogliamo. Sono tante, ho citato già Reverb ma potremmo citare tranquillamente Amazon o ci sono dei portali come Mercatino Musicale ci sono tante diciamo possibilità o dei siti come Thoman che fanno la vendita diretta, quelli nel caso sono negozi che vendono online quindi ci sono molte opportunità di poter comprare online della strumentazione. Quali sono i rischi e quali sono le situazioni in cui ci possiamo trovare e quali sono le difficoltà a cui andiamo incontro nel momento in cui scegliamo di fare un acquisto online. A chi non è capitato di fare una ricerca per qualche strumento e appunto essere reindirizzato a un sito come Reverb o come Thoman o come Mercatino Musicale che sono in Italia sono quelli più indicizzati, anche Amazon va molto bene naturalmente e troviamo quello che ci piace e decidiamo di acquistarlo. Io nel mio specifico come avevo detto nella preview ho fatto questo acquisto tramite Reverb per questo pedale che vi faccio vedere che mi è arrivato praticamente nuovo, imballato è un Sun Amps, la versione 2 praticamente quello con il controllo dei medi In Italia veniva oltre 220 euro, 225 euro, io l'ho pagato 165 dollari praticamente spedito da Chicago Una volta che è stato acquistato il pedale Reverb mi ha dato uno screenshot appunto confermandomi l'acquisto e dandomi tutto il tracking praticamente per la spedizione La spedizione è partita il 7 gennaio ed è arrivata in Italia l'11 gennaio Dall'11 gennaio al 20 febbraio, giorno in cui mi è stato consigliato il pacco sono passati oltre 40 giorni, quindi un'attesa enorme per un pacco praticamente di appena un chilo e che sicuramente non conteneva né cocaina né marijuana né nulla di simile Comunque al di là di questo, oltre ai tempi di attesa biblici la dogan ha aggiunto una tassazione che appunto è l'IVA, vi apro la fattura in tempo reale ve lo faccio vedere, tassie e oneri doganali col costo di 30 euro pari al 22% dell'IVA, ok? Come potete vedere c'è anche un dazio doganale e in questo caso praticamente il dazio non è stato applicato c'è un valore di 0 euro, 0% come potete vedere quindi non sto nascondendo nulla rispetto a quello che ho pagato c'è anche specificato il tasso di cambio quindi il tasso di conversione euro, naturalmente dollari oneri e spese di sdoganamento 7 euro e 50 non ho pagato il dazio ma comunque sia ho pagato una tassa fissa di 7 euro e 50 per gli oneri e le spese di sdoganamento quindi sostanzialmente sono arrivato a pagare il pedale circa 190 euro sui 220, 225, 230 che è il costo che trovavo online in Italia ho avuto un risparmio ma se valuto il risparmio in funzione del tempo di attesa probabilmente se avessi avuto necessità di acquistarlo prima avrei fatto meglio ad acquistare in Italia tramite appunto sul nuovo tramite uno dei tanti portali come mercatino musicale eccetera eccetera quali sono i rischi nell'acquistare tramite un portale come Toman, Amazon, Reverb eccetera eccetera tendenzialmente sono bassissimi i rischi anche perché sono portali di vendita molto controllati dobbiamo comunque sia essere forniti di un sistema di pagamento che ci consente di fare operazioni online come Paypal molto semplice la registrazione a Paypal quindi personalmente è un sistema che utilizzo molto anche per il pagamento spesso fra privati quindi se nella prima parte stiamo affrontando quello che viene chiamato il B2C quindi il business to consumer quindi un negozio che vende a un privato affrontiamo anche quello che è l'aspetto dell'acquisto fa privati o comunque facciamo ancora un passo indietro dell'acquisto direttamente da un'azienda al privato faccio un esempio in questo caso ho in mano un basso Tribe Tribe è un'azienda piccola che fa ancora tutto praticamente per quanto riguarda la gestione delle vendite direttamente quindi quando noi vogliamo acquistare uno strumento tendenzialmente da un artigiano o da un'azienda piccola contattiamo direttamente l'artigiano in questo caso prendiamo accordi economici direttamente con lui paghiamo lo strumento e lo strumento ci arriva non ci sono passaggi di mezzo per passaggi di mezzo che cosa intendo? non c'è la distribuzione sapete che i grandi marchi come Martin come tante GNL, Ampeg, Fender, Gibson eccetera nonostante sia in crisi eccetera eccetera ma potremmo andare avanti all'infinito si appoggiano a dei distributori per quanto riguarda diciamo la distribuzione nazionale quindi se noi vogliamo acquistare uno strumento entriamo in un negozio la Fender che troviamo o l'Ampeg che troviamo viene distribuito direttamente da un'azienda che appunto si occupa di far arrivare gli strumenti nei punti vendita e che ne cura tendenzialmente sia la distribuzione sia l'assistenza che poi curi realmente l'assistenza quello è un discorso veramente molto a parte tendenzialmente no però andrebbe proprio aperto un capitolo a parte quindi quando noi acquistiamo uno strumento naturalmente abbiamo sia il costo dello strumento che il costo dovuto agli oneri del distributore quindi ci sono una serie di passaggi che vanno ad incidere su quello che è il costo reale dello strumento quando noi invece acquistiamo direttamente dal produttore al consumatore quindi da chi naturalmente produce lo strumento e lo commercializza abbiamo un abbattimento comunque già in partenza dei costi di distribuzione e soprattutto abbiamo un rapporto diretto con chi lo strumento lo realizza cosa molto importante perché se ho un problema cosa che poi può capitare spesso ecco che rientra in gioco il discorso di distribuzione se io ho un problema contatto direttamente il venditore quindi l'azienda che me l'ha venduto quando io invece ho un problema con un brand che viene distribuito non contatto l'azienda che produce ma contatto l'azienda che distribuisce che poi si rifà a sua volta dall'azienda che produce vedete che ci sono una serie di passaggi che non facilitano il fatto che se io ho uno strumento che ha un problema riesca a riottenerlo in tempi brevi con una certezza della riparazione con una sicurezza di risposta quindi ci sono diversi step che vanno valutati l'acquisto personalmente diretto dal produttore è sempre la soluzione che io preferisco perché appunto non ci sono step successivi e mi garantisce di avere un contatto diretto con chi realizza lo strumento che mi interessa altro esempio, altro strumento che ho acquistato recentemente è che ho acquistato in questo caso appoggiandomi a e acquistando online tramite Your Music di Roma avevo fatto delle ricerche su questo strumento che è un godenne a 5 fretless avevo visto i prezzi online poi ho contattato questo negozio di fiducia da cui mi rifornisco purtroppo per me troppo spesso e sono contento per loro e mi sono fatto fare il prezzo il prezzo che loro riuscivano a offrirmi era molto più basso rispetto a quello dell'acquisto online quindi sono andato sia per fiducia nei confronti del negoziante di chi comunque sia saluto Damir, saluto Claudio mi segue negli acquisti sia proprio per un discorso di prezzo quindi a volte acquistare online non è detto che sia un vantaggio se avete un negozio di fiducia se avete una persona a cui poter chiedere comunque un preventivo fatelo perché il rapporto con il negoziante è comunque un valore aggiunto che ancora ad oggi vale la pena conservare quindi tenete anche presente che quando voi acquistate online non avete nessuno a cui rivolgervi in caso di problemi vi dovete naturalmente rivolgere al sito che poi vi rimanderà a una persona competente quando invece acquistate da un negozio voi acquistate da una persona che conoscete e che quindi vi garantisce almeno spero un rapporto di fiducia e di professionalità appunto in questo caso questo strumento è stato acquistato tramite negoziante tramite Your Music di Roma e per quanto riguarda il pagamento ha fatto un semplice bonifico bancario quindi nella maniera più semplice possibile naturalmente per qualsiasi tipo di problema a questo punto io spero di non averne naturalmente ma qualora ne dovessi avere manderò lo strumento direttamente a loro e poi loro faranno in modo di procedere alla riparazione qualsiasi cosa sia e avranno i loro canali per rivolgersi a chi naturalmente dovrà preoccuparsi della riparazione non sarà più un mio problema ma fa parte della garanzia che fornisce comunque il proprietario del negozio del punto vendita facciamo un ultimo esempio in cui parliamo della compravendita fra privati in questo caso questo strumento che ho acquistato diversi anni fa l'ho acquistato da un ragazzo di Terni che ho contattato tramite il sito Mercatino Musicale c'era l'annuncio, ho visto le foto ci siamo messi in contatto e da quel momento nasce quella che è la compravendita ovvero lui ha una richiesta economica io propongo un'offerta e poi a quel punto si decide è lì che succede diciamo il tutto si decide come muoversi personalmente per quanto riguarda l'acquisto di uno strumento la mia preoccupazione principale è quello di poterlo provare quindi ovunque sia salvo non sia veramente molto lontano da dove mi trovo prendo la macchina, vado, lo provo e ci perdo anche del tempo facendo caso a tutti gli eventuali difetti che magari non sono elencati nell'annuncio di vendita questa è una cosa che potrebbe accadere quindi non nel mio caso ma potrebbe accadere quindi sto molto attento a quello che andrò a comprare appunto perché nella transazione fra privati non esiste il recesso e quindi una volta che voi avete acquistato praticamente siete proprietari dello strumento e non c'è possibilità di restituirlo quindi molta attenzione quando noi facciamo un acquisto fra privati nel constatare, nel verificare lo stato di usura della strumentazione quindi uno strumento, un amplificatore, un pedale qualsiasi cosa sia la cosa migliore è sempre andare di persona provare, testare tutto quanto e verificare che non ci sia nessun tipo di difetto perché poi successivamente diventa un problema a poter tornare indietro un consiglio che mi sento di darvi per quando volete acquistare appunto fra privati è cercate di informarvi il più possibile sulla persona con cui avrete a che fare non perché sia un'indagine o comunque sia una sorta di novelli diciamo indagatori o comunque sia investigatori è per avere un riscontro sulla persona e cercare di capire se in qualche modo lo conosciamo è una persona affidabile è una persona attendibile su quello che comunque sia ci sta vendendo quindi ad esempio se acquisto uno strumento da un collega bassista cerco di capire se ho amici, colleghi che lo conoscono e che mi possono dare delle garanzie sulla persona poi successivamente decido di incontrarlo e di provare lo strumento se è tutto a posto quella persona è una persona fidata quindi naturalmente non ci saranno problemi la compravendita va a buon fine se non avete modo di poter provare lo strumento a quel punto a maggior ragione diventa ancora più importante il discorso di avere delle informazioni di avere dei recapiti di essere sicuri nella transazione perché una volta ribadisco che avete acquistato non esiste il diritto di ricerso quindi quello che è perso è perso se avete dei danni e lo scoprite dopo comunque non potete tornare indietro ci sarebbe solo il caso in cui c'è una errata descrizione del prodotto però si entra in un circolo di beghe legali e la cosa è veramente molto lunga e molto spinosa personalmente preferisco non arrivare mai a quel punto lì quindi siate molto pignoli nell'acquisto soprattutto quando riguarda l'acquisto fra privati facciamo un brevissimo riepilogo di quello che ho detto fino adesso praticamente tre tipologie di acquisti che prevedono l'acquisto online su siti portali come Reverb, Amazon, Thoman eccetera eccetera strumentimusicali.net me ne viene un altro acquisto fra azienda e privato dove l'azienda vende direttamente all'utente finale acquisto tramite negozio che può vendere sia online che fisicamente come ho detto prima ho fatto l'esempio di Your Music di Roma e acquisto fra privati quindi compra e vendita fra privati quattro tipologie di acquisti con quattro modalità di comportamento differenti con quattro rischi differenti con quattro situazioni differenti ma che sono tutte cose che capitano realmente tutti i giorni e che è buona norma conoscere e cercare di capire nel miglior modo possibile per evitare appunto come ho detto già nel preview di prenderlo nel culo scusate ma rende perfetto bene detto questo non mi resta che salutarvi alla prossima lezione di Basso in Pillole e come dico sempre Base Your Life non mi resta che saluta non mi resta che saluta non mi resta che saluta